Grande giornata, quella di giovedì 15 novembre, per il Partito Democratico Aquilano. La sede storica di Via Paganica del Partito Comunista Italiano prima, poi sede del PDS ed EDS, finalmente tornerà ad essere aperta dopo il terremoto del 2009. L'inaugurazione è prevista alle ore 18. È un evento importante che ci dà carica di emozioni e responsabilità. Lo è per tutta la città, ha detto il segretario del Partito Democratico Stefano Albano. Presenti anche il capogruppo Stefano Palumbo e l'ex presidente del Consiglio Comunale Carlo Benedetti, Fabrizio Pandori, responsabile turismo, Tommaso Ciancarella, responsabile città-territorio e Riccardo Persio, responsabile attività produttive del Partito Democratico. Noi siamo molto emozionati perché è chiaro che per noi non si tratta soltanto di inaugurare una sede, di inaugurare delle stanze, ma quello è un luogo simbolico. Quelle stanze hanno visto decenni di lotte in difesa dei diritti dei lavoratori, dei diritti dei più deboli. E quindi insomma siamo consapevoli dell'importantissima eredità. Noi non vogliamo inaugurare soltanto la sede del Partito Democratico. Noi pensiamo che quella debba essere la casa della democrazia e della sinistra, del centro-sinistra di questa città, soprattutto in questi tempi, in cui insomma c'è un'ondata politico-culturale che nega questi valori. Questi sono valori che invece al contrario vanno rilanciati con forza, difesi. Ospite d'onore di giovedì sarà l'ex segretario nazionale del Partito Democratico, Walter Veltroni. Walter Veltroni è stato un po' il primo segretario. Volevamo anche una figura che potesse essere scevra dalle attuali contrapposizioni interne al Partito Democratico. Volevamo una persona che potesse essere simbolo di tutti. E lui sicuramente lo rappresenta, ha una lucidità, una capacità di analisi importante rispetto anche a quello che sta accadendo in questo momento. Walter Veltroni è un amico di questa città. La sede è stata pensata per essere un luogo aperto a iniziative culturali e sociali. Aperto a chi vorrà discutere non solo di politica ma anche di cultura, condividere i valori di un'area. È stato il responsabile organizzazione del PD cittadino Mario Schettino a seguire tutti i passaggi che hanno portato all'aria apertura di giovedì. Da responsabile organizzazione e nonché da segretario mi sento di ringraziare tutti i ragazzi e non solo, diciamo anche tutte le persone un po' più adulte del Partito Democratico che hanno contribuito in questi giorni alla sistemazione e alla riapertura della sede. Qui si vede il vero senso di comunità politica, il vero senso di partecipazione e quello che un partito dovrebbe essere. Aperà appunto una comunità politica. Ma per noi diventa fondamentale riaprire quella sede in via Paganica perché diventerà una casa per la democrazia, una casa per tutto il mondo della sinistra cittadina e non solo. La metteremo a disposizione per eventi e iniziative culturali e a disposizione per tutte quelle associazioni che non hanno in questo momento una casa, non hanno comunque uno spazio per poter svolgere le loro riunioni, metteremo a disposizione per l'appunto la sede a via Paganica. Questo diventa per noi un fondamentale atto di rientro e di rivitalizzazione del centro storico.